Voglio essere molto chiaro, non ho parlato con Gagliani, ho parlato credo soltanto l'anno scorso, quando c'era la possibilità di andare al Milan. Ho parlato solo due o tre volte nella mia vita con lui, non ne ho parlato di più, non so perché la Santa abbia detto determinate cose, quello che conta è che adesso sono alla Juve e sono felice di essere qui.